Gambero Rosso premia il caffè svizzero di Cagliari, tre tazzine, un importante riconoscimento, Marco Palmas, a caldo le tue parole, cosa ne pensi, sei soddisfatto di questo riconoscimento? Molto soddisfatto e orgoglioso, soprattutto perché negli anni abbiamo puntato molto sulla professionalità, sul servizio e sulla qualità dei prodotti e i prodotti servizi, in questo caso del caffè, perché appunto negli anni abbiamo migliorato sia la tecnica e tante cose, con il personale soprattutto, che abbiamo formato e niente. Tre tazzine, la qualità di eccellente, il caffè più buono a Cagliari si beve qui? Sì, posso dire di sì, perché comunque noi che proveniamo dal mondo del caffè, io personalmente, uno dei miei soci anche, per noi è stato un sorpreso, perché è stata la prima esperienza così bella, perché noi non ci si aveva un caffè la prima volta con noi, quindi siamo stati, siamo anche emozionati comunque, l'idea è tutto, poi vediamo anche il riconoscimento da parte dei clienti. Marco, avete fatto la storia, nel senso che questo caffè svizzero ha fatto la storia qui a Cagliari? Sì, dal 1901 è presente qua, da sempre, dal 98 inni, sempre alta la qualità. Obiettivo? Continuare a servire ottimi caffè, ottime colazioni e tutto quello insomma. Sento quello che è di contorno al caffè, quindi sì. Allora, Marco in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie.